Grazie a tutti. 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 Vedremo gli sviluppi anche se ci sono dei sospetti, fa sapere il primo cittadino. Le prime ipotesi escludono un atto vandalico dal momento che non sono stati rilevati segni di infrazione. Potrebbe trattarsi di un tentativo da parte degli stessi alunni di accedere a documenti o registri, magari per alterarli. Ma tutto è ancora da provare. La denuncia contro i gnoti presentata dal sindaco salutare è stata presa in carico dai carabinieri di Castelvecchio che si stanno occupando del caso. Adesso ci occupiamo anche noi della tragedia che si è consumata nella giornata di ieri. Sono state ore di tentativi da parte delle forze dell'ordine per far desistere Fausto Filippone, 49enne, dirigente della Brioni, azienda pescarese, nel tentativo di suicidarsi, gettandosi dal viadotto a lento dell'autostrada 14. Dopo ore l'uomo si è suicidato buttandosi giù, morendo sul colpo. Prima nello stesso punto l'uomo aveva lanciato la figlia della compagna che è morta poco dopo. L'uomo ha scavalcato la rete di protezione a cui si è tenuto aggrappato per oltre sei ore. A nulla è servita la presenza del mediatore sull'autostrada chiusa al transito nel tratto. Così come non è servita la presenza della sorella dell'uomo che più volte è stato sentito gridare le parole scusa, scusa. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti di Pescara anche quella, tra le altre, che Fausto Filippone possa aver avuto un ruolo nella morte della compagna Marina Angrilli, precipitata ieri mattina dal balcone di un'abitazione di famiglia a Chietiscalo e morta poi in ospedale. Sgomento dolore e incredulità nella scuola primaria di via del concilio a Pescara dove andava Ludovica Filippone, la bambina di dieci anni gettata ieri pomeriggio dal padre Fausto, poi come dicevamo suicidato sincerato dal viadotto Alento della 14. Poca voglia di parlare nel plesso dove questa mattina i suoi compagni di classe non sono andati a scuola. Per tutta la settimana sono state sospese le attività ricreative, la bandiera della scuola è a lutto. Ludovica, ricorda la dirigente scolastica Valeriana Lanaro, era una bimba splendida, brava e molto dolce, aveva una predisposizione per le arti. Questo è un momento molto particolare con il pensiero fisso degli amichetti di Ludovica che non la vedranno più, che a oggi è molto forte ed intenso. Parliamo di un dramma nel dramma con delle emozioni molto forti. Non conoscevo personalmente i genitori, dice la dirigente scolastica, perché sono dirigente della scuola nello scorso settembre, ma ho saputo di una famiglia molto attenta. I genitori seguivano Ludovica. Lasciamo dunque questa tragedia, adesso torniamo nel centro Abruzzo per occuparci dell'ospedale di Sulmona. Il film già visto del laboratorio analisi e gli ausili erogati a Singhiozzo. Analizziamo questi aspetti nel servizio di Andrea D'Aurelio. Due ore e mezza di attesa per un prelievo, mentre gli ausili continuano ad essere insufficienti. Non si arrestano le polemiche all'ospedale dell'Annunziata Sulmona. Per la situazione dei laboratori analisi e l'erogazione dei pannolini nei reparti, e entrambi i cassi finiti al centro di esposti e segnalazioni al Tribunale per i diritti del malato. Al laboratorio analisi è stata rimpiazzata l'unità di personale in gravidanza, ma l'operazione di portare a termine dalla AS, la Vezzano-Smona-L'Aquila, non è bastata per riportare calma all'interno del nostro comio, dal momento che le ore di attesa per un prelievo restano lunghe, con gli utenti che in alcuni casi sono costretti a rinunciare alla prestazione. Ma i disagi continuano a interessare anche la fornitura di ausili, in particolare dei pannoloni. Solo il mese scorso una donna, con seri problemi di deambolazione, aveva ordinato un numero di 270 pannoloni per un periodo di tre mesi, per riceverne 90, con tutti i problemi che comporta tale disservizio per la dignità e la salute degli utenti. Ma a quel caso se ne sono aggiunti anche altri. Il Tribunale per i diritti del malato, con il responsabile Edoardo Facchini e l'avvocato Katia Buglielli, si è già attivato presso la Genas e aveva annunciato, in caso di mancata risoluzione del problema, di adire le vie legali per tutelare le esigenze e le necessità degli utenti che altro non chiedono, se non i propri diritti. Il disservizio riguarderebbe osili di ogni genere, il che non è da sottovalutare per uno soccomio che vuole mantenere la sua forza attrattiva. Sulmona ha la sua Università Telematica, grazie all'asse Regione San Raffaele. Sarà attiva dal prossimo 25 maggio, ne parliamo in questo servizio. Se l'Università dell'ex Caserma Pace si è andata a man mano dileguando con la chiusura di tutti i suoi corsi, ora Sulmona punta sull'Università Telematica. La sede dell'Università Telematica San Raffaele Roma sarà infatti operativa, con tutti gli uffici di segreteria, dal prossimo 25 maggio in città, nel liceo Mazzara. Finalmente arriva una buona notizia per la città avvocata alla cultura. Si tratta di un obiettivo centrato dall'assessorato regionale della formazione, che grazie al sulmonese Andrea Gerosolimo, ora consigliere regionale, ha lavorato a stretto contatto negli ultimi due anni con il gruppo San Raffaele per portare nel capologo Peligno un presidio che restituisce vitalità a settore. L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita con decreto nel Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca dell'8 maggio 2006, è un'attene uno statale, legalmente riconosciuto, che rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo valore legale di quelli rilasciati dalle università tradizionali. L'offerta didattica è erogata in modalità e-learning attraverso l'utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie digitali. Gli studenti possono accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi momento, in qualunque luogo, abbattendo un invincolo spazio-temporale, offrendo in tal modo la fruizione del materiale didattico anche a coloro che per ragioni fisiche, geografiche o lavorative ne sarebbero esclusi. A Sulmona saranno attivi diversi corsi, da scienze amministrative a scienze delle attività motorie e sportive, per finire con scienze dell'alimentazione e gastronomia. Il taglio del nastro è in programma il prossimo 25 maggio, con la proiezione del film Caravaggio e l'anima e il sangue, alla presenza, fra gli altri, del Vescovo di Sulmona, Monsignor Michele Fusco, e del Vescovo di Tramoatri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, delegato CEAM alla formazione. Per Sulmona rappresenta un momento importante, perché l'apertura della sede universitaria è un segnale della vitalità di questo territorio. Questa è la dimostrazione che tutti insieme, se si lavora tutti insieme, anche importanti obiettivi possono essere raggiunti. Da qui ringraziamento di Gerosolimo all'amministrazione comunale di Sulmona e al sindaco Anna Maria Casini, al dirigente scolastico del Polo Idio, Cadreina Fantauzzi, al gruppo Saraffaele Sulmona, che continua ad investire in città. L'Arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Petrocchi, sarà cardinale. Ieri, durante il Regina Celi, in Piazza San Pietro, il Pontefice Papa Francesco ha annunciato che il prossimo 29 giugno ci sarà la nomina di 14 nuovi cardinali. Tra loro c'è anche l'attuale Arcivescovo dell'Aquila, Giuseppe Petrocchi. Monsignor Petrocchi, originario della provincia di Ascoli Piceno, si trova all'Aquila dal 2013. È stata una sorpresa totalmente inaspettata e penso che voglia essere anche un segno di vicinanza del Papa per l'Aquila e tutte le popolazioni terremotate del centro Italia. E quanto ha dichiarato l'Arcivescovo dell'Aquila, Giuseppe Petrocchi, ringrazio Papa Francesco per la fiducia e affido tutto a Maria Madre Modello della comunione della Chiesa. Ha detto ancora il prelato, ieri, prima di ufficiare la messa nella parrocchia del comune Aquilano di Tornimparte. Secondo quanto si è appreso, Petrocchi, almeno per ora, rimarrà all'Aquila con il suo ruolo di Arcivescovo. Adesso ci sono aggiornamenti di cronaca. Una ragazza 23enne di origini Aquilane è stata arrestata a Roma insieme al compagno romano con l'accusa di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti. Due vivono in Via Marforio a torre spaccata dell'abitazione sono stati trovati 700 grammi tra marijuana e hashish oltre a numerose piante pronte per la produzione dello stupefacente serre, lampade e materiale per il confezionamento. Tutto il materiale è stato sequestrato. I due al momento si trovano agli arresti domiciliari. Un altro aggiornamento di cronaca la Polizia di Stato arrestato e condotto nella casa circondariale dell'Aquila in esecuzione di un ordine di sospensione della detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila su richiesta del sostituto procuratore Stefano Gallo un cittadino italiano di origine però del Nicaragua di 29 anni da tempo residente nel capoluogo abruzzese l'uomo dal mese di marzo stava scontando una detenzione domiciliare presso il progetto case di Bazzano gli investigatori su delega della procura dell'Aquila hanno monitorato le comunicazioni dell'uomo perché sospettato di aver partecipato al furto perpetrato al circolo tennis nello scorso mese di febbraio l'attenzione degli investigatori si è concentrata sul cittadino italo-sudamericano poiché giorni prima del furto l'uomo si era presentato al circolo tennis chiedendo informazioni ed è stato successivamente riconosciuto in foto come cliente non abituale inoltre nel corso di una perquisizione nell'abitazione dell'uomo gli agenti avevano rinvenuto e sequestrato una sacca con arnesi inutilizzabili per commettere altri furti l'arresto è scattato poco prima che l'uomo potesse ottenere un passaporto dello stato del Nicaragua infatti una volta ottenuto il titolo di viaggio l'uomo avrebbe potuto abbandonare l'Italia sottraendosi alla pena di un anno e due mesi ancora da scontare lasciamo questo aggiornamento di cronaca passiamo ad altro torniamo a Sulmona per vedere la quinta edizione della passeggiata a sei zampe che si è svolta nella giornata di ieri nel capoluogo Peligno sono stati tanti i partecipanti che hanno accompagnato i cani in un percorso che è partito da Piazza Garibaldi per finire nel piazzare del centro commerciale Il Nuovo Borgo ha seguito l'evento per noi Gaetano Trigilio che ci riferisce in questo servizio un successo la passeggiata a sei zampe è giunta alla quinta edizione oltre 90 i cani che hanno preso parte alla passeggiata con i loro guidatori un'ampia vetrina cani di ogni razza di ogni taglia piccolissimi e grandissimi come il pastore di montagna di Pirenei l'odevole iniziativa alcuni cani sulla pettorina recavano la scritta cerco casa cani prelevate dei canili per cercare di trovare loro una famiglia una casa e richiamare la pubblica attenzione sulla necessità di adottare animali ricoverati nei canili come si chiama? Tyson poi lo riporterai al canile? eh purtroppo sì se troviamo qualche persona qualche famiglia che lo adotta gli odiamo dovete andare al canile di Sulmona a Cote Felici questo è un cane del rifugio di Popoli sono dei cani dolcissimi molto affettuosi solo che non conoscono il valore della famiglia quest'anno abbiamo pensato di far uscire sette codine felici gestibili al guinzaglio proprio per dargli la possibilità di far vedere che anche i cani del canile sono gestibili sono amorevoli e possono essere sempre adottati anche se sono un po' più adulti gli organizzatori hanno inteso lanciare un messaggio forte alla pubblica opinione non abbandonate gli animali numerosi cartelli con la scritta se li lasci non vale non abbandonare soprattutto in prossimità del periodo estivo non all'abbandono l'evento è stato organizzato dall'associazione eventi tra noi communication con il patrocine del comune di Sulmona la collaborazione del centro acquisto del nuovo borgo e la cattolica assicurazione quest'ultima ha fornito gadget a tutta la comitiva noi crediamo molto nel legame che c'è tra i nostri amici a quattro zampe e tutte le persone che ci sono attorno noi come agenzia cattolica crediamo in polize che possano permettere una serenità alle famiglie che hanno dei cani raduno in piazza Garibaldi poi la baiante carovana si è avviato lungo corso video flash mob sulla gradinata dell'annunziata pit stop alla villa comunale conclusione della passeggiata il piazzale del nuovo borgo con esibizione del centro cinofilo semplicemente cani e bao village presenti responsabili del central garage fornitore di prodotti citroen di sicurezza per i viaggi dei cani in auto in treno in aereo e persino in bici al termine della manifestazione il direttore del nuovo borgo Andrea Di Cosmo ha espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione assicurando che i negozi la proprietà e la direzione del centro acquisti sono sempre disponibili a sostenere eventi che interessano la città la giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità Silvio Paolucci ha deliberato l'integrazione del comitato tecnico scientifico istituito per i disturbi dello spettro autistico con una professionalità di comprovata esperienza in materia psichiatrica si legge in una nota l'esecutivo nella stessa seduta individuato per la figura la richiesta Danilo Montanaro il comitato tecnico scientifico composto da 17 membri avrà la durata di tre anni e si riunisce con una periodicità almeno semestrale nella sede dell'agenzia sanitaria regionale su convocazione del direttore la partecipazione dei membri ai lavori del comitato sempre ai sensi dell'articolo 8 del documento tecnico e a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico del bilancio della regione Abruzzo conclude la nota appunto della regione che si riferisce all'ok che è stato dato al nuovo componente del comitato scientifico tre mesi di respiro per il cinema pacifico di Sulmona che si fermerà per l'estate ce ne parla nel servizio Andrea D'Aurelio il cinema pacifico farà freddare il proiettore per tre mesi dal primo giugno al 31 agosto si ferma la programmazione giornaliera per riprendere il primo settembre 2018 una decisione che è stata assunta dalla nuova gestione della sala cinematografica che non esclude riproporre il cinema all'aperto nel mese di agosto per non staccare totalmente la spina durante la stagione estiva ma tutto è ancora da valutare il passaggio di consegna dalla talia SRL è già avvenuto nei giorni scorsi e si pensa a programmare la stagione autunnale che potrebbe concretizzare tutti i buoni auspici espressi in questi primi mesi dalle elezioni rock un ciclo di film specifici a nuovi incontri con gli attori da portare in sala si studiano nuove formule come quella del drink ad abbinare a bilietto d'ingresso alla vericinema progetto che non sarà possibile far decollare subito dal momento che servono altri fondi per i lavori di adeguamento della sala se ne sono andati circa 100 mila euro il cinema resta quindi in piedi ma la partecipazione dei sulmonesi lascia comunque a desiderare anche se soprattutto nei weekend le presenze in sala non deludono le aspettative dei gestori fra il pubblico abituale ci sono gli over 65 mentre mancherebbero all'appello ai giovani un dato che conferma come spesso l'esercizio della lamentela prevale sull'esercizio del fare per i film da proporre in estate anche se su questo resta la riserva sarebbero stare individuate alcune location come il cortile dell'annunziata quello di Palazzo San Francesco l'oratorio di Cristo Re fino a 31 maggio si prosegue intanto con la programmazione stabilita da domani arriva Kedi la città dei gatti film documentario della regista turca sugli straordinari felini che da migliaia di anni popolano le strade di Istanbul e che grazie alle cure e all'attenzione degli abitanti vivono liberi facendo inegabilmente parte della vita e della cultura della metropoli turca il documentario sarà in programmazione al Cinema Pacifico dal 22 al 24 maggio alle 17.30 e alle 19 adesso ci occupiamo di ciclismo Sulmona torna ad avere una squadra di giovani ciclisti promotore dell'iniziativa e la sezione sportiva del dopolavoro ferroviario di Sulmona preseduto da Franca Festa che dopo una lunga tradizione nel ciclismo amatoriale ha deciso di puntare sui giovani atleti mettendo anche a disposizione per la preparazione atletica i locali dell'ex bocciodromo di via Alessandro Volta a guidare il team e il tecnico direttore sportivo Paolo Ferrusi i giovani atleti saranno presentati alla città questa sera alle 19 nei locali del Soul Kitchen in via Alessandro Volta a Sulmona interverranno il presidente del dopolavoro ferroviario di Sulmona Franca Festa il tecnico Paolo Ferrusi per la fondazione Carispac Armando Sinibaldi e Mimo Taglieri l'ex campionessa del mondo di ciclismo femminile l'aquilana Alessandra De Torre il presidente regionale della federazione ciclistica italiana Mauro Marrone il direttore tecnico regionale della federazione ciclistica Giuseppe Bernardi il presidente del panatron di Sulmona Luigi La Civita il responsabile sportivo dell'oratorio Don Bosco di Sulmona Don Stefano Buti il fiduciario del coni di Sulmona Mimo Carrozza il presidente provinciale della federazione ciclistica italiana Fernando Ranalli il responsabile regionale del settore giovanile della federazione ciclistica italiana Antonio Menicucci il fondatore della Polar di Sulmona Dino Dino del Monaco a condurre la serata sarà Luca Alò non so se adesso è pronto un servizio che si riferisce alla fiaccolata che c'è stata lo scorso sabato all'eremo di Celestino Quinto mi dicono di no quindi ne parleremo nell'edizione di questa sera del nostro telegiornale anzi mi dicono che sta per arrivare il servizio sulla fiaccolata quindi non questa sera ma lo vedremo adesso un attimo di pazienza andiamo con una comunicazione che riguarda una richiesta di lavoro perché il comune di Sulmona richiede un lavoratore per la farmacia comunale si tratta di un pratico di farmacia o in subordine e deve essere possessore della qualifica codice Istat 5122 la durata del rapporto è a tempo determinato quindi ci sarà un contratto full time per sei mesi gli interessati dovranno presentarsi al centro per l'impiego di Sulmona fino al 5 giugno quindi hanno tempo da domani fino al 5 giugno per presentare la loro richiesta per la candidatura a questo posto alla farmacia comunale di Sulmona e adesso possiamo vedere la fiaccolata che c'è stata lo scorso sabato in centinaia la fiaccolata che illumina l'eremo tappa anche alla bazia celestiniana vediamo nel servizio di Andrea da Aurelio in centinaia la marcia celestiniana che ha illuminato il morrone tutti con la fiaccola accesa in mano nel nome di Celestino per non perdere il legame con la storia la tradizione e l'identità di una comunità un'edizione piena di novità quella del 2018 che ha visto per la prima volta i sindaci di Sulmona e Prato e queste fiaccole sembrano proprio quelle fiamme discese nel cenacolo sugli apostoli che portano lo spirito santo per me questa sera ha avuto proprio questo senso ed è lo stesso spirito santo che ha guidato San Celestino V il lungo serpentone ha preso le mosse come sempre all'imbrunire con qualche minuto di ritardo sulla tabela di marcia dall'eremo di Celestino V un percorso che ha riportato alla mente la storia di Celestino il Papa non del rifiuto ma della rinuncia in quei luoghi suggestivi la fiaccolata è approdata anche alla bazia celestiniana un'altra delle novità di quest'anno è un patrimonio immateriale che dobbiamo nel tempo preservare e trasmettere al futuro così è intervenuta Anna Maria Casini sindaco di Sulmona che ha aperto la marcia con la fiaccola in mano assieme a lei oltre a Vescovo Fusco ha anche il neo assessore alla cultura Alessandro Bencivenga il sindaco di Prato Lavelini Antonella Di Nino che ha ringraziato l'associazione celestiniana che con il suo presidente Giulio Mastro Giuseppe ha consentito lo svolgimento della consueta fiaccolata che ha illuminato l'eremo e anche la frazione di Bagnaturo in festa quest'anno c'è stata la tappa anche all'interno della bazia celestiniana riaperta e che è stato insomma anche un momento abbastanza suggestivo senza dubbio per questo dobbiamo ringraziare l'associazione celestiniana che non solo tiene a questa manifestazione tiene al territorio tiene alla spiritualità e i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti e noi teniamo a portarla avanti perché che significa mantenere un legame con la memoria le tradizioni con l'identità di un territorio che l'associazione cerca in qualche maniera di protrarre nel tempo certo è difficile perché rispetto a qualche anno fa è difficile avere come dire sostegno anche economico in queste cose però con qualche sacrificio ci stiamo riuscendo prima di concludere come al solito la programmazione cinematografica oggi giorno di riposo per la multisala Iggoland di Corfinio mentre al cinema Pacifico di Sulmona è in programmazione il film invito al matrimonio con orari 19 e 21 e 15 è tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale grazie della cortesa attenzione prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con il meteo buona giornata a tutti voi sulla nostra regione condizioni di cielo poco nuvoloso parzialmente nuvoloso con possibili arpie schiarite assisteremo poi allo sviluppo di addensamenti consistenti addosso dei rilievi specie sulla Marsiche nell'Aquilano con rovesci e possibili temporali in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico l'instabilità continuerà a manifestarsi anche in serata e in tarda serata con rovesci diffusi che dal settore occidentale tenderanno ad estendersi anche verso il settore orientale e lungo la fascia costiera attenuazione dei fenomeni in tarda nottata e nelle prime ore della giornata di domani temperature generalmente stazionarie venti deboli dei quadranti settentrionali lungo la fascia costiera e collinare occidentale altrove possibili colpi di vento durante i temporali mare poco mosso o localmente mosso di vento in tarda nottata Grazie a tutti.